E' questo il quattordicesimo di confronto. Si tratta dei sedicesimi di finale della categoria dei medio-massimi. Sono sul ring l'americano Clay col numero 272 e il Belga de Caos. L'americano Clay è un giovane di 18 anni ed è alto 1,87 m. E' uno dei migliori elementi della formazione americana che ora vedremo all'opera. L'americano infatti è accreditato di numerose vittorie prima del limite e quindi viene definito come un pugile dotato di molta potenza. Abbiamo detto che questo è il quattordicesimo confronto ed ora vediamo i risultati degli altri incontri sinora disputati. Per i pesi leggeri il tedesco Lempio ha battuto per knockout alla terza ripresa, il tunisino Ziri, poi il polacco Pazior ha battuto Karim, Iran. Hernandez, Messico ha battuto il pakistano Sarvar. L'egiziano Skoivair ha battuto l'australiano Grumster. Il sovietico Baranikov ha battuto Gerlach, Olanda. Il rumeno Mihailic ha battuto il finlandese Yara Bempa. Per la categoria dei Welter pesanti invece si sono avuti i seguenti risultati. L'americano McClure ha battuto il negro dell'Uganda, Niagvesco. Poi l'argentino Lima ha battuto per knockout alla seconda ripresa il canadese Alleine. Il sovietico Lagodin ha battuto per knockout alla prima ripresa il pugile del Ghana prima. L'australiano Bukowski ha avuto la meglio ai punti sul sudafricano Schutt. Nella categoria dei medi vittoria ai punti del romeno Monea su Paparizov Bulgaria e poi vittoria dello svizzero Buki sull'inglese Addison. Questo è il secondo incontro della categoria dei medio massimi. Il primo incontro ha visto il successo di Schiappa, il campione europeo dei pesi medi sovietico che ha battuto ai punti il lussemburghese Cilien. Sul quadrato, ripetiamo, ora sono l'americano Clay con il numero 262 opposto al belga Becaus. L'americano come noterete è dotato di maggiore lungo e boxe con maggiore sicurezza. Sinora ha tentato di portare qualche attacco ma senza troppa convinzione. Il belga sino a questo momento si è mantenuto sulla difensiva. l'americano appare molto agile, mobile sulle gambe, accenna qualche attacco ma con scarsissima convinzione. Ha bloccato ora un destro del belga. l'americano è la sensazione di non spingere a fondo ma ora ha messo a segno un sinistro all'avviso del belga. In questa prima ripresa non si è visto granché, soltanto si è notata la maggior autorità di Clay, il pugile che vedete all'angolo, diciottenne, alto 1,87 m. La possibilità di disporre del suo allungo e la possibilità di muoversi agilmente sulle gambe lo hanno portato a combattere in suplesse. Evidentemente non ha mai forzato il ritmo, non ha mai portato un attacco con convinzione, anche perché il suo avversario, il belga che ora vedete inquadrato, ha combattuto un po' intimorito. Ha cercato più che altro di difendersi ed è stato favorito più che altro dalla circostanza che l'americano ancora non ha messo segno nessuna azione con vero impegno. L'americano è uno dei favoriti di questa categoria dei medio-massimi, al limite di 81 kg. Per la verità è apparso un buon pugile ma ancora non ha messo in evidenza tutte le sue possibilità. Ha inizio la seconda ripresa. il belga accenna degli attacchi ma poi non li porta a fondo. L'americano controlla agevolmente la situazione. Ci pare però che Clay sia un poco lento, perlomeno in questa fase, un po' lento. Ha portato ora però un bel montante di sinistro. Controlla a suo piacimento l'incontro, un destro ora ha scosso nettamente il belga, un destro che ha toccato la mandibola. l'americano si muove con sorprendente leggerezza e anche con eleganza, a fare strasicuro di sé. E' superiore in tutti i temi ora però ha dovuto incassare un destro. E' il primo destro che il belga riesce a mettere a segno. Probabilmente Clay, con un uomo molto veloce, si troverebbe un po' a disagio, se questo è il suo ritmo normale. Ma con Beckhaus non corre francamente nessun rischio. Un destro preciso alla mandibola ha messo al tappeto il belga e l'arbitro inizia il conteggio. Ecco, vedete Parker, l'arbitro che ha contato gli otto secondi. Ancora un leggero destro. Il belga è in netta difficoltà. Mancano 20 secondi alla conclusione della seconda ripresa. Ora una bella serie di Clay con ganci al volto in sinistra e di destra. E l'arbitro ha interrotto il combattimento assegnando il successo a Clay. Mancavano pochi secondi alla conclusione della seconda ripresa, ma ormai l'incontro aveva detto tutto. Per Beckhaus infatti non c'era nessuna possibilità. E l'americano già aveva raggranellato un margine rilevantissimo di vantaggio. Tra l'altro i due knockdown del belga abbiamo ormai chiaramente fatto pendere la belancia in favore di Clay. Ecco il belga che appare un po' contrariato per la sorte avversa, perché in effetti ha avuto di fronte nel primo incontro di questo torneo un pugile di grande valore, uno dei migliori iscritti a questo torneo. Clay ha combattuto senza impegnarsi a fondo e quando lo ha fatto, avete visto in questa seconda ripresa, quando cioè ha messo a segno una bella serie di colpi, si è visto che porta i pugni con violenza, con precisione e colpisce soprattutto nei punti di maggiore efficacia. È un giovane a 18 anni e quindi è destinato a portare a termine una buona carriera. Vittoria ufficiale quindi assegnata a Clay per knock-out tecnico alla seconda ripresa. Sì a chiudere attui, preznare a lavitse a quello che si vedete e per te sapere in modalità Assisti eφ.